Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi partono finalmente dei review gameplay dei Toz della Serie A. Partiamo subito con il reparto arretrato, che già so, è quello che magari vi stuzzica di più l'appetito insieme all'attacco, però ci sono dei giocatorini molto interessanti, per cui andiamo subito a guardare Quadrado, Teo Hernandez e Romero, partendo come al solito da recapino statistico e poi passiamo a quelle che sono le clip registrate in game durante appunto il test avvenuto in questi giorni. Eccoci qua, primo giocatore che ci troviamo davanti è proprio Juan Quadrado, 1,79m, ovviamente terzino destro, dal rendimento alto normale, piede destro, 5 di skill e 3 di piede debole. Primo commento generico su informazioni di base per quanto riguarda Quadrado, non preoccupatevi per quanto riguarda il work rate alto normale perché non ne risente, anzi l'ho trovato molto efficace in quelli che sono ripiegamenti difensivi, rarissimamente fuori posizione, quindi non spaventatevi. Per quanto riguarda il 5 di skill è efficace, è possibile anche sfruttare Quadrado, infatti terzino a tutto campo, anche da esterno vi dico, quindi quello è sicuramente un quid in più che dà a Quadrado la possibilità di essere versatile, il 3 di piede debole insomma lo risentiamo fino a un certo punto. Per quanto riguarda le statistiche è molto molto veloce palla al piede, mi è piaciuto veramente tanto proprio questo aspetto di Quadrado, per non parlare di quelli che sono i ripiegamenti difensivi, in particolare le diagonali. L'ho trovato molto 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 più automatico rispetto a quelle che sono state le versioni precedenti, l'ho trovato molto più difensore rispetto alle versioni precedenti, ha degli ottimi passaggi, mi sono piaciuti tanti suoi filtranti, si vede effettivamente quel miglioramento statistico, in particolare in quella che è la lettura difensiva. L'ho trovato molto aggressivo, si attacca bene all'uomo, quel 70 di forza in realtà si traduce semplicemente in una poca erruenza, però è pulito negli interventi e solitamente gli spalla a spalla li prende sempre lui. Quindi Quadrado, veramente strapromosso, un bel 9 pieno, soprattutto perché non costa neanche tantissimo, sicuramente il miglior terzino per quanto riguarda una Serie A, e probabilmente anche uno dei migliori terzini, anche in ottica di linkare Cristiano Ronaldo. Secondo giocatore testato, Cristian Romero. 1,85m di difensore, basso alto il suo work rate, piede destro 2-2. Prima sguardo generale su Romero, diciamo un giocatore alla quondee, anche in seguito lo vedremo nelle statistiche, quello che gioca maledettamente a suo favore è il prezzo, perché veramente come quondee costa pochissimo, ma il suo impatto in game è veramente devastante. Difatti abbiamo una velocità che per me è esattamente giusta, la si sente, non si fa quasi mai saltare in velocità in campo aperto, quindi scappa bene all'indietro, ha degli ottimi passaggi in fase di impostazione, è molto agile con le L2, riesce a reagire perfettamente a quelli che sono i micromovimenti in area degli avversari, è forte, infatti gli interventi sono sempre praticamente dalla sua parte, è molto aggressivo, si attacca molto molto bene all'uomo, shielda bene l'avversario. Romero mi è piaciuto veramente veramente tanto, diciamo che all'interno di una Serie A, secondo me va a scalzare Tomori, lievemente indietro a Smalling, che magari è un po' più lento, però è un po' più fisico, quindi la sua irruenza, la sua possanza fisica gli permette di magari autobloccare qualche tiro in più, vincere qualche contrasto in più, ma la pulizia e la precisione degli interventi di questo Romero mi ha veramente soddisfatto e il rapporto qualità-prezzo è quello che appunto fa la differenza per questa carta qui, quindi anche per lui do un bel 9 pieno, molto molto soddisfatto di Romero. Allora, arriviamo a Teo Hernandez, Teo Hernandez sulla carta direte voi, è sicuramente il giocatore che mi è piaciuto di più, il più forte di questi qua. Io vi dico ni, nel senso abbiamo un giocatore di 1,84m con work rate atto normale, piede sinistro 3-3. Allora, Teo Hernandez l'ho giocato in due ruoli, difensore centrale e terzino sinistro, e vi posso dire che fino a quando l'ho giocato difensore centrale, non preoccupatevi del rendimento perché non si sente, ma in mezzo alla difesa mi sembrava un po' un oggetto spaisato. Non chiedetemi il perché, il per come, ma io non sono mai stato un grossissimo fan di questo Teo Hernandez da difensore centrale. L'ho trovato impreciso negli interventi, spesso e volentieri andava fuori tempo, molto rapido per carità, però è un difensore che secondo me si adatta allo stile di gioco di chi esce molto alto con il difensore centrale per cercare di recuperare il pallone, ossia anche io, infatti alla fine mi ci sono adeguato avendo capito questo. Però per difendersi all'interno dell'area di rigore o al limite non l'ho trovato il giocatore ideale. La musica è letteralmente cambiata quando io questo Teo Hernandez l'ho spostato da terzino, perché ha iniziato a fare un sacco di anticipi, porta bene sul pallone, peccato che non abbia le 4 skill, un sacco di diagonali automatiche, si sentiva tanto, veramente tanto, fastidiosissimo, dava veramente noia agli attaccanti avversari, quindi io onestamente l'ho preferito da terzino che da difensore centrale. Paradossalmente avevo Dalot che spostavo terzino quando giocava a lui centrale, quando ho messo Dalot centrale ho detto porca miseria, fortissimo sto Dalot, eppure non me lo ricordavo così forte. Quindi per lui, calcolando il prezzo, calcolando che comunque a sinistra in serie A non è che ci siano queste grandissime alternative, ma comunque essendo francese di alternative in quel reparto ce ne sono, gli do un 7 più, diciamo, a questo Teo Hernandez. Ma passiamo subito a vedere quelle che sono le clip registrate appunto durante il test di questi giocatori e partiamo proprio da Quadrado. Quadrado che vedete qui io non sto controllando, e proprio perché vi dicevo che questo lo trovo molto più automatico, guardate io contro il Romero, guardate questo che allunga il gambone destro per intercettare questo giocatore, questo passaggio. Ovviamente l'immancabile speed boost, devo dire che è veramente un bellissimo speed boost sulla fascia, prende tanti metri, questo quadrato come potete vedere guardate lascia sul posto più volte l'avversario. All'interno dell'area di rigore ancora una volta guardate come io vado a selezionarlo solo all'ultimo, lui rimane sempre in posizione di intervento e poi precisissimo con il contrasto a sradicare il pallone. Qui ottima la diagonale, guardate come interviene pulito senza rischiare un contatto pericoloso che lì, insomma, sappiamo essere causa di rigori anche inesistenti alle volte. Qui il fisico di cui vi parlavo in precedenza contro Rafa, che è un giocatore bassino dal baricentro a basso, guardate come prende bene posizione, si mette davanti, vince lo scontro, il duello e poi riporta anche l'azione in avanti. Ancora una volta qui, quadrato semplicemente tenuto indietreggiando, mette il piedino da solo per recuperare il pallone. Quindi dopo aver visto quadrato passiamo invece a Romero. Romero che, guardate subito da questo primo clip, mentre io lo sto controllando, ancora una volta intercetta questo pallone mettendo il piedino automatico, quindi parliamo di un giocatore anche questo molto molto efficace sotto questo punto di vista. A proposito di interventi automatici, guardate qua, io seleziono immediatamente Romero che si trova vicino al Lewandowski avversario e guardate come mentre schiacciavo le due lui va a mettere il piede in automatico permettendomi di recuperare il pallone. Qui all'interno dell'area di rigore, su Neymar, quindi un giocatore super agile, ancora una volta un intervento precisissimo senza commettere fallo, anche qua non tutti vanno a eseguire un intervento così pulito, permettendo appunto anche di poter rilanciare l'azione. Qui invece l'altra faccia della medaglia, perché se Teo io non l'ho trovato un difensore da ultimi metri ma solo da campo aperto, questo Romero invece abbina entrambi le sue doti. Infatti guardate qui come vado a recuperare benissimo palla alta su Coutinho e poi rilancia anche l'azione grazie ai suoi ottimi passaggi. Ancora un altro footage con Romero che si avventa su Mbappé, in campo aperto recuperando il pallone e notate come sia in questo intervento sia in quello precedente la palla gli rimanga esattamente incollata ai piedi e questo è veramente una chicca che mi è piaciuta tanto di questo giocatore, un po' come accadeva esattamente con Condé, per quello vi dico il Condé della Serie A. Qui invece passiamo a vedere quelle che sono le clip di Teo Hernandez e subito vi faccio notare una cosa, già qui siamo in una posizione da difensore centrale più schiacciati, guardate, va a fare il contrasto ma non recupera bene il pallone, quindi qui già abbiamo dei piccoli problemini. Invece guardate qui come andando a recuperare palla altissimo, come vi dicevo, quindi sfruttando tutta la sua velocità, la sua aggressività, allora sì, vedete, permette di recuperare il pallone con questo contrasto aggressivo. Ancora una volta, guardate quanto sono distante dalla mia area di rigore, lo seleziono per andare in campo aperto quasi a centrocampo e Teo va a recuperare il pallone. Ancora una volta, qui un ottimo recupero, ma più o meno a 40 metri dalla porta. La musica invece cambia, guardate, quando lo sposto terzino perché vado a sfruttare questa sua caratteristica e infatti una volta persa palla, guardate come recupero immediatamente la palla che rimane franco bollata al piede e posso rilanciare anche all'azione. Qui guardate come va a fare questa diagonale automatica. Io stavo controllando all'interno dell'area di rigore da low, Teo Hernandez va a mettersi davanti a Lewandowski recuperando il pallone. Qui, sull'out di sinistra, ancora una volta, io mentre controllo che sì, Coutinho avversario va a eseguire il passaggio e Teo Hernandez va a recuperare palla in automatico. Quindi, recapino di quelli che sono, raga, questi giocatori. Ripeto, mi son piaciuti tantissimo quadrato il Romero, voto 9 in pagella, come potete vedere li ho trovati molto automatici, molto precisi negli interventi. Teo Hernandez, secondo me, da rivedere nella posizione difensore centrale, si sposa meglio con uno stria di gioco molto aggressivo con recupero palla in campo aperto, mentre cambia la storia se lo mettete da terzino. Secondo me lo sfruttate leggermente meglio. Quindi, voto 7+. Raga, per questa prima review è tutto. Come al solito, fatemi sapere che ne pensate nei commenti. Vi ricordo in descrizione live per le info giornaliere sulla piattaforma Gola. Un saluto, un abbraccio al vostro Liberoschi. Ciao!